Io un'ultima domanda, poi so che ti dobbiamo lasciare andare, quelle più o meno cattive spettano sempre. Anna non mi fa domande? No, io evito. Non lo so. Allora ti faccio una io? Sì. Vuoi sposarmi? Ma per carità. Mamma mia ragazzi, è bellissimo questo. Grande Leo! Mi ha detto di no due volte. Grande Leo! Mi deve rispondere. Mi deve rispondere. No, no, io sono a casa. Questa cosa è a casa. Hai stanto? Stavi dicendo? Niente. Comunque aspetto la risposta, basta dire di sì, basta, non è così difficile. Aspetto, ma non so se... Non ce ne va più a rispondere a quel mio canale. Ma adesso? Non ce ne va più a caso. Non ce ne va serio, eh? Caramba che sorpresa. Va bene. No, molto serio, molto serio, Vini, molto serio. Va bene. Allora, appunto... Va bene, grazie. Va bene cosa? Va bene cosa? Va bene sì. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Sì. Benissimo. Non so che non si è andato a tanto tempo, ma poi doveva arrivare. No, sì, sarà una cosa... Grazie, eh. Grazie. Già che abbiamo preso il... E Barcellona ci sposiamo, dai. Dai. Non è grande festa, proprio. Grazie. Ciao. Un bacio. Ciao. Ciao. A Milano in Brasile, due volte facciamo. Vabbè, ciao. Va bene. Un attimo in pausa, magari. Sì, ciao a te, ciao. Sì, ciao a te. Dopo c'è il sorriso di Europa. Ciao. Ti è piaciuta? Bella. Di mezzo, dove è un pazzo? Ciao a te, ciao a te, ciao a te, ciao a te.